Sono Roberta Torresan, sono una wedding planner e designer. Lavoro nel campo dei matrimoni da diversi anni. Grazie alla collaborazione con Centeus organizziamo corsi per futuri wedding planner, sia corsi base che corsi avanzati. In primavera, dal 3 al 9 aprile, saremo invece a Monteriggioni, a Siena, presso Borgo San Luigi, dove vivremo insieme a tutti i partecipanti e ai formatori un'esperienza veramente unica. L'obiettivo del corso è quello di migliorare le proprie competenze sia manageriali che personali e di inserirsi nel mercato come wedding planner di successo. Sarà una settimana ricca di contenuti e di attività, ma non solo, perché ci saranno diversi momenti in cui saremo tutti insieme, quindi momenti di confronto e di arricchimento reciproco. Non vedo l'ora di incontrarvi tutti per il wedding training experience a Borgo San Luigi. Grazie a tutti.